bene siamo con genna fracassi segretaria generale flc cgl con cui vogliamo parlare di come sta cambiando la scuola italiana in particolare della riforma tecnico professionale che il ministro valditara con una certa speditezza sta portando avanti e intende concludere il prima possibile noi riteriamo che sia una pessima riforma anche diciamo con un'impostazione piuttosto vecchiotta mi sembra una riedizione di qualcosa che ho conosciuto circa vent'anni fa cioè con un'idea di canalizzazione precoce non serve a nessuno a meno se non a quelli che l'hanno pensata francamente e qui lì c'è un rischio molto forte perché ci sono la riduzione di un anno anche se per via sperimentale esatto la riduzione di un anno ma ci sono altri due aspetti che ci preoccupano molto il primo è sostanzialmente una governance ibrida della scuola con l'inserimento nel diciamo nel nel cosiddetto campus di soggetti esterni che vanno a definire quelli che sono una parte dei curricoli perché questo va detto no con una grande flessibilità da questo punto di vista la seconda questione è che c'è la possibilità anzi c'è la certezza che una parte degli insegnamenti siano affidati ad esterni io trovo questo come dire un atto di sfiducia nei confronti dei docenti italiani dei istituti tecnici e professionali è un'idea ancora subordinata al fatto che secondo una parte del diciamo dei metrapensé di questo paese ritiene che solo nell'ambito dell'impresa neanche del lavoro anche il lessico aiuta ci siano le condizioni per diciamo garantire insegnamenti efficaci a chi poi dovrà uscire dal sistema scolastico io credo che questa sia una pessima riforma noi la contrasteremo intanto va ne va dato diciamo informazione perché è abbastanza poco nota alle persone non vorremmo che da questo primo passaggio poi si arrivasse a un altro passaggio cioè un'idea molto diciamo canalizzata e molto ridotta del sistema di istruzione secondaria cioè la dico così una riduzione anche dei licei e una spinta diciamo per il grosso del dei ragazzi e delle ragazze verso il sistema di istruzione tecnica e professionale lo dico perché c'è un'idea classista che sta alla base di queste scelte cioè l'idea che chi frequente tecnici e professionali ha uno sbocco diciamo predeterminato mentre invece per una parte dei licei non per tutti lo sbocco diverso prova ne è di quello che sto dicendo è l'intervento sul liceo economico e sociale con questo liceo del medico in Italia che francamente in cui non si capisce francamente il senso ragazzi un'ultima battuta quindi siete anche contro questo PCTO un po' presente in maniera sempre più viva e come dire anche a volte invadente rispetto alla didattica no ma qui cioè è proprio questo quando parlavo di subordinazione anche culturale c'è proprio l'idea una mistificazione del ruolo della didattica perché le esperienze di scuola lavoro ora qui CTO sono devono stare all'interno del curriculum devono essere progettate ma sono altra cosa rispetto a un appiattimento che mi sembra di comprendere anche dalle riforme a cui facevo cenno un appiattimento e una sovrapponibilità delle attività didattiche con qualunque tipo di cito testualmente dal decreto dei tecnici che attualmente in discussione eh esperienza eh e alleanze a scuola e impresa stagio e tirocini sono uguali sono la stessa cosa rispetto al diciamo il percorso scolastico ecco questo è proprio sbagliato perché eh qui c'è un'idea anche della missione della scuola che è sbagliata la missione della scuola che è sbagliata potrei anche continuare dicendo che forse se ci fermassimo un attimo e riflettessimo cosa serve veramente a questo paese che cosa serve in termini di mercato del lavoro e di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze rispetto a un mondo che si sta trasformando ci sono grandi transizioni in campo e tutti si stanno interrogando non di dare meno scuola o di fare meno scuola ma di dare più competenze più conoscenze quindi più scuola perché oggi il mercato del lavoro non è quello di venti o trenta anni fa io non apprendo a fare una cosa e la farò per tutta la vita io devo avere e questa è la missione della scuola le conoscenze e le competenze necessarie per orientarmi prima di tutto come cittadino ma poi anche come lavoratore quindi è proprio l'inverso di quello che si sta facendo. Bene fracassi io direi a questo punto di salutarci e di darci appuntamento a una fase successiva che sarà quella della risposta del governo alla vostra protesta vediamo se sortirà effetti innanzitutto in bocca al lupo per il vostro percorso il vostro progetto e quindi arrivederci a presto. A presto grazie mille. Grazie mille.